Le immagini che vi stiamo mostrando si riferiscono al lab vaccinale di Via Forcile a Catania, che è anche l'unico luogo del capoluogo etneo in cui è possibile seguire i tamponi per il Covid-19 in modalità drive-in. La coda di automobili interminabile racconta quello che la maggior parte dei cittadini sta sperimentando sulla propria pelle in questi giorni, l'aumento dei contagiati con il conseguente aumento dei contatti tra non positivi e positivi. Il rapporto è di 334,7 cittadini positivi ogni 100.000 abitanti. I dati, come sempre, parlano chiaro. Il 29 dicembre nei drive-in dei tamponi di Via Forcile e di Acireale nella provincia sono stati eseguiti oltre 3.500 test, dei quali 394 risultati positivi, cioè l'11% dei cittadini che hanno fatto i controlli per verificare un eventuale contagio da Covid-19 erano effettivamente stati contagiati. A questi numeri vanno aggiunti quelli delle farmacie e dei laboratori di analisi autorizzati a eseguire test molecolari, anche loro presi d'assalto dalla cittadinanza. Il commissario Covid dell'ASP di Catania, il dottor Pino Liberti, ha chiarito che si sta lavorando per aprire altri drive-in, ma ha anche detto ci vorranno delle settimane. Ha sottolineato inoltre come sia inutile andare a fare un tampone e il giorno dopo un contatto con un soggetto positivo. Nel frattempo, per mettere una pezza e tentare di accorciare almeno un po' i tempi di attesa, Liberti ha lanciato il sito testcovid19.it per eseguire la registrazione online dei propri dati anagrafici. Ma già oggi, all'indomani della presentazione della piattaforma, il sito risulta essere in manutenzione e dunque inaccessibile.